Buonasera, questo video per fare insieme la consueta panoramica generale sulle principali borse internazionali a metà settimana pomeriggio, sono le 16.30 di giovedì 15 aprile. Parto come al solito dal mercato italiano, dal nostro Fuzzi Mib che sta un pochettino soffrendo nelle ultime sedute, diciamo che da inizio aprile ha iniziato un ritracciamento abbastanza importante ma non deleterio perché tutto sommato ci stiamo mantenendo ampiamente al di sopra dell'importante soglia psicologica dei 24.000 punti e ci manteniamo anche al di sopra sebbene in diverse sedute siamo avvicinati alla media mobile a 25 qui indicata in verde. È un mercato che in questo momento sta lateralizzando, non ha forse una grande forza per rimbalzare e però d'altro canto non ha neanche intenzione di scendere, quindi è una fase di indecisione e di lateralità. Ovviamente quindi i segnali operativi per le prossime sedute e la prossima settimana sono short sotto il livello 24.100, long invece sopra un bel livello che è il 24.380, lavorato più volte. Al momento ci manteniamo in trading range con una forte indecisione del mercato anche accompagnata purtroppo da volumi piuttosto ridotti. Però in generale sul mercato l'impostazione di medio termine rimane assolutamente rialzista, abbiamo una bella trendline che sostiene i prezzi e francamente sono ottimista sul fatto che la prossima settimana potremo andare a rompere al rialzo il 24.380 che ho appena citato per poi tentare di raggiungere il precedente massimo relativo sul livello 24.700. Passando al mercato tedesco, al DAX, nelle ultime sedute a differenza del mercato italiano non c'è stato alcun tipo di ritracciamento, però sicuramente è evidente una fase laterale di congestione anche con scarsa volatilità intraday, un mercato che si sta muovendo assolutamente in orizzontale fra i 15.200 punti e i 15.338 punti, scusate, che è stato anche il massimo storico. Questo è una fase di consolidamento di prezzi, il mercato che si è fermato, si è fermato di correre, però in compenso non sta per niente ritracciando. Possiamo utilizzare l'analisi tecnica e vedere che questa lateralità delle ultime otto sedute, compresa quella odierna, alla fine è un rettangolo, una figura che però è una figura di continuazione, quindi fa seguito al rally degli ultimi mesi, figura di continuazione in atto questo rettangolo, quindi fa da preludio probabilmente alla continuazione del rialzo nelle prossime sedute, al di sopra del livello già detto dei 15.338 massimi storici, per andare a realizzare nuovi massimi storici molto vicini alla soglia dei 15.500 punti. Riguardo quello che avviene a Wall Street, qui abbiamo con scassione temporale daily, esattamente come i grafici precedenti, lo Standard & Poor's 500, che oramai ogni settimana ci stupisce andando a realizzare sempre massimi storici e lo sta facendo anche oggi, anche adesso, in questo momento, assolutamente in diretta per chi registra, sul massimo, realizzando un massimo a 4.156 massimo storico. Qui, come abbiamo già detto tante volte nelle analisi settimanali precedenti, il mercato è assolutamente a rialzo nel breve, nel medio e nel lungo termine, non ci sono, soprattutto da metà marzo in poi, stati alcun tipo di ritracciamento o di ciclicità ribassista, il mercato sta facendo un rally e continuamente al rialzo e a parte qualche seduta leggermente negativa, ma neanche molto spiccata, in realtà la forza rialzista del mercato è sempre predominante. Per le prossime sedute, non vedendo possibilità di ritracciamento o di, né tanto meno, di inversione di tendenza, a questo punto è ovvio che conviene anche adesso entrare su questo mercato in posizione long, non lo ritengo particolarmente rischioso, perché il trend è talmente forte e talmente evidente, non ci sono candele rosse, non ci sono candele negative, per cui la positività è assolutamente conclamata e per le prossime sedute non mi stupirei, visto che mi sono già stupito in passato molte volte, ma sempre essendo esmentito dal fatto che prima o poi un ritracciamento ci sarebbe stato, ma al momento non c'è e quindi non mi stupisco se venissero nelle prossime sedute battute, realizzati ancora nuovi massimi storici e eventualmente lo Standard & Poor's 500 raggiungesse addirittura la soglia dei 4.200 punti. Riguardo alle commodities, in particolare partendo dal petrolio, il crude oil, l'analisi effettuata la scorsa settimana si è rivelata e si sta rivelando assolutamente corretta, avevamo detto che non c'era la possibilità nell'intraday e neanche nel multiday di fare della grossa operatività, dal punto di vista operativo era molto poco interessante a causa di un movimento laterale di diverse sedute circa sotto i 60 dollari al barile anche con poca volatilità. Nell'intraday avevo detto che l'unica possibilità di fare trading era quella di uscire dall'ampio, mediamente, moderatamente ampio trading rage compreso fra un minimo di 57 e 50 e un massimo di 62, proprio nella giornata di ieri abbiamo con una bella candela positiva verde superato a rialzo la soglia dei 62 dollari al barile, quindi sono entrato in posizione long, posizione long che mi sta dando soddisfazione e che penso di mantenere, visto che siamo entrati appunto abbiamo rotto il breakout della congestione, siamo usciti nella parte alta, io credo che non avrà grandi spazi di crescita, dubito che possa arrivare al massimo relativo precedente importante sui 68 dollari, però un ulteriore strappo rialzista fino a 65, 64 e mezzo, 65 effettivamente me lo aspetto e quindi rimango in posizione long. Ripeto che ancora un po' di spazio di crescita al rialzo effettivamente c'è grazie al breakout di quota 62. Altrettanto interessante proprio nella giornata di oggi l'oro, altra commodities, bene il rifugio che finalmente sta prendendo quota, avevamo detto in passato della presenza di un doppio minimo, ho fatto inizio marzo un primo doppio minimo su 1675 e un altro doppio minimo sempre sul livello 1675 testato a fine marzo, da lì le quotazioni hanno ripreso. Come avevo detto potete vedere nell'analisi precedente che sarei entrato, come sono entrato in posizione long al superamento di quota 1700, buon recupero delle quotazioni, effettivamente il mercato è salito, ha superato la media mobile a 25, ha superato il parabolic SAR e proprio nella giornata di oggi c'è stato anche l'importante breakout rialzista che tante volte abbiamo detto, visto che lì c'era l'indicatore super trend sul livello 1761. Quindi io mantengo la mia posizione rialzista sull'oro, penso che possa arrivare fino a 1780 e lì probabilmente chiuderò la posizione. Non credo, non sono così avido o ambizioso di poter pensare che possa arrivare a 1800, sarebbe una bellissima sorpresa, però francamente non lo credo. Credo che potremmo continuare a rialzare nelle prossime sedute, la settimana prossima e mi aspetto e mi auguro di poter raggiungere, mi accontenterei di poter raggiungere il livello 1780. Comunque sicuramente mercato positivo grazie alla conferma avvenuta proprio oggi sul 1761 e al superamento dell'indicatore super trend. Infine uno sguardo al mercato valutario, in particolare al cross principale, l'euro-dollaro, anche qui l'analisi effettuata la scorsa settimana si è rivelata corretta, devo dire però che era anche piuttosto facile, nelle ultime sedute aveva superato a rialzo sia l'indicatore Parabolic SAR che la media mobile a 25 e poi soprattutto l'indicatore super trend sul livello 1.1883 e ovviamente il mercato a quel punto non ha fatto altro che andare a rialzo avendo indicatori positivi ed essendosi innescato un piccolo rally, un piccolo trend rialzista. Però a questo punto quello che a mio parere che si è fatto è ormai anche in un certo senso terminato, si coglieva il trend derivato da questo minimo, doppio minimo in area 1.17 anche se in realtà lì pensare ad un'inversione tendenza era piuttosto arduo ed era molto coraggioso, ma ripeto sull'1.1883 andare long era molto più facile, molto più semplice con varie oggettive, valide motivazioni, però io credo anche che questo movimento a rialzo sia terminato. Chi lo ha preso possa, credo debba in un certo senso prendere profitto perché siamo arrivati in prossimità del livello 1.20, 1.20 che anche in passato, soprattutto nel mese di marzo, più volte aveva fatto da resistenza e il mercato lì poi aveva ritracciato a volte anche in modo pesante. Quindi 1.20 è senza dubbio una resistenza e per chi ha colto quindi il movimento al rialzo può essere considerato un target dal quale uscire, grazie al quale uscire dalla posizione. Poi vedremo se avrà forza di superare un eventico, allora ce l'avesse ben venga, si entra nuovamente in posizione long perché la rottura di questa resistenza è un altro segnale di acquisto. Ma per chi è già in posizione long, francamente per prudenza chiuderei le posizioni proprio perché questo 1.20 più che essere una resistenza da breakout o paura, possa essere una resistenza vera, un ostacolo difficile da superare in prima battuta. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading.